amici di begolino tv buon natale da me stesso cioè babbo natale guardate guardate io che collega spettacolare che ho adesso non so se si legge la scritta tra l'altro in inglese è from enrico tusandro ma l'ha fatto mia moglie che sai che io non le faccio queste cose from enrico tusandro mi ha fatto il regalo di natale sono veramente orgogliose di avere un collega così io dovrei aspettare il suo regalo ma in realtà non arriverà sai che non ho l'abitudine di fare regali potrebbe arrivare attenzione lo stesso regalo quello che ha fatto lui riciclato me lo regala a me per far bella figura essendo pelle come dici tu ti prendo in parola e faccio pelle e non ti faccio il regalo di natale guardate ho fatto anche questo regalino guardate ho fatto anche questo regalino qua guardate o figlio non ne frega niente nessuno calendario calendario di radio bruno guarda che bello questo per ricordarvi di scaricare la canzone che sentite in sottofondo grazie ai nemici dell'ageop e grazie a voi che l'avete già scaricata stiamo raccogliendo tanti soldi per il progetto ageop grazie ragazzi grazie ascoltatori continuate poi attenzione se lo volete venite però in sede qui a radio bruno eh in sede radio bruno ci sono i calendari i calendari bravo bravo vieni un po' più sotto perché non ti si vede ah ok devo spostare si si vedi 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 ecco così ecco siamo qua con eh no ecco 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 faccio vedere, è così un po' storta, invece così è dritta perché te l'avvicina perché la Silvietta, Silvia a mezzanotte che è veramente una donna splendida. Sì, donna splendida che tra l'altro appena ti ha incontrato, lo ricordiamo agli ascoltatori di Begolino TV, lei è entrata nella sede, Enrico è andato ad accoglierla e lei cosa ti ha chiesto come prima cosa? Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? La salutiamo perché è stata una presenza che ha arricchito finalmente in programma, sarà contento il capo, perlomeno per stamattina non ci insulta e ci fa i complimenti e non ce li fa male. No, dicendoci che siamo i numeri uno così però. Sì, esatto, quello è il massimo del complimento nei nostri confronti, noi siamo felici di questo. Ecco, ci sono tante altre sorprese ma le scoprirete nei prossimi giorni in diretta con la strana coppia dalle 6. Ciao Begoloni! Ciao, 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 ciao.